Allora, il periodo che abbiamo di fronte è sicuramente un periodo difficile. Noi, d'altro canto, a livello di ASL, ospedale di Pescara, stiamo cercando di mettere in atto insieme al direttore generale, al dottor Gabriele che in questo momento ricopre il ruolo di direttore facente funzione del pronto soccorso, insieme al dottor Caponetti, al dottor Fortunato, tutti stanno collaborando nel tentativo di dare una mano a questo problema concreto. Il problema sostanzialmente gira su due punti, un eccessivo arrivo di pazienti in pronto soccorso e uno scarso deflusso verso i reparti ospedalieri che sono pieni. Questo determina uno stazionamento anomalo di tanti pazienti nel pronto soccorso che comunque vanno seguiti e quindi, diciamo, come tale assorbono risorse a loro volta. Ci vuole il medico e gli infermieri che li seguono. Togliendo un medico alla front line del pronto soccorso la lista d'attesa, gioco forza, si prolunga. Allora, quali sono i punti fondamentali? Allora, intanto al primo luglio apre ufficialmente la centrale unica al 118 Chieti e Pescara. Questo cosa comporta da un punto di vista proprio pratico? Comporta da un punto di vista pratico che il cruscotto che i colleghi del 118 avranno davanti con i codici gialli presenti in quel momento, o anche rossi, in quel momento a Chieti e Pescara consentiranno di smistare i malati dove c'è minor lista d'attesa. E questo è già un grande vantaggio per ridurre l'afflusso. Contiamo molto sui colleghi di base, medici di famiglia, per cercare di darci una mano. Soprattutto il problema più grosso, chiaramente, è nel weekend e in previsione dell'arrivo dei turisti. Contiamo molto internamente sui colleghi dei vari dipartimenti per dare una maggior movimentazione dei pazienti in senso di dimissioni, anche di quelle agevolate, eccetera. Contiamo di recuperare dei posti letto. Ne abbiamo già recuperati circa una diecina all'interno di una padazzina C e speriamo, proprio nella prossima settimana, di recuperarne altri venti, forse, presso il presidio ospedale Iero di Penne. Questo ci consentirebbe di avere un ulteriore deflusso. Certo che il tutto ha un denominatore comune, cioè il sottodimensionamento dell'ospedale di Pescara nei confronti della popolazione che l'ospedale di Pescara serve. Quindi occorrono più medici e più letti. Ma questo purtroppo non dipende da noi. Grazie a tutti.